Negli anni di Palazzo Chigi, Guerzoni così che Amoro aveva raccontato di me, di me non perché la mia persona avesse un rilievo, tutt'altro, ma perché in quegli anni, 14-15 anni, io ero tra i pochissimi democristiani dichiarati. Nelle scuole c'erano movimenti di tutti i tipi, soprattutto di sinistra, di estrema sinistra, c'era qualcosa sulla destra, non c'era quasi nulla che facesse riferimento alla DC, al governo. Siccome io invece ero molto impegnato nel raccontarmi come democristiano, non so se fosse un atto di devozione alla mia famiglia, un atto di anticonformismo rispetto al clima che c'era nelle scuole, Guerzoni si divertiva a raccontare a Moro che c'era un giovane democristiano, perfino moroteo, che andava un po' controcorrente. Nel frattempo mio papà aveva instaurato una collaborazione un po' politica, un po' di lavoro, tant'è che quando all'indomani del 68 Moro fu disarcionato, dovete lasciare la guida del governo, e passò anche dentro la DC all'opposizione, si diede un piccolo organo di stampa, un'agenzia che si chiamava Progetto, di cui mio padre è stato direttore. Agenzia che curava e scriveva personalmente Moro, credo che non sia mai stata scritta una sola riga che non fosse, diciamo, della sua penna, o comunque da lui vidimata ufficialmente. In quegli anni l'ho conosciuto, il ricordo più significativo che ho risale al 1975, lui era presidente del Consiglio e andò ad inaugurare, come faceva ogni anno e come tuttora fa il capo del governo, la Fiera del Levante a Bari. E allora, sempre per intercessione di Guerzoni, io fui caricato sull'aereo di Stato, mi ricordo che partimmo una mattina all'alba, da Roma, dall'aeroporto di Ciampino, andammo in volo a Bari e passammo tra la Fiera del Levante, poi il pranzo in prefettura e poi i giri canonici che si facevano in quelle occasioni, le sezioni, le parrocchie, i giornalisti, i passanti. Passai un'intera giornata con Moro, posso dire. che mi ha lasciato un'impressione profonda. L'impressione di quel giorno fu quella di un uomo che conduceva una vita straordinariamente faticosa. Perché mi ricordo che arriviamo a Bari. Allora Bari era terzo mondo, si può dire. L'aeroporto era diviso da una strada lungo la quale passavano le macchine, per cui atterrava l'aereo, poi c'era il pulmino e il pulmino per arrivare all'hangar doveva attraversare una strada che era una strada di tutti i giorni, per così dire. Salimmo su questa macchina, che era una 130 blu, un pachiderma. Arrivammo alla Fiera del Levante, facemmo tutta la visita degli stand, che era un viaggio lunghissimo e faticoso. Poi il rito della cerimonia di apertura, i discorsi, il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della regione, il presidente del Consiglio, che non era notoriamente telegrafico nei suoi ragionamenti. E poi quando tornammo alla macchina, io, come tutti i ventenni, ero molto stanco e vedevo la macchina come una specie di miraggio. A un certo punto un signore si avvicinò e gli disse, presidente, lei non è venuto a visitare il mio stand. Io lo guardai implorando, come dire, finiamola qua, non ne posso più di girare per stand. Invece lui con santa pazienza girò sui tacchi, riattraversò tutta la Fiera del Levante, e andò in questo stand dove offrivano dei formaggi, mi pare. Naturalmente fu assalito da tutti i locali che avevano premure, sollecitazioni, inviti da fare, preghiere da rivolgere. Poi andammo in prefettura, ci fu un pranzo interminabile. Moro era sempre straordinariamente paziente, attento verso tutti, pronto all'ascolto. E io avevo un sentimento di insofferenza, perché mi sembrava, non dico tempo perso, ma mi sembrava, come dire, un eccessivo investimento nella fatica. Moro era particolarmente gentile, particolarmente votato all'ascolto, particolarmente curioso, non che gli altri non lo fossero. Diciamo che lui lo era un po' più degli altri. Poi c'erano le eccezioni. Fanfani era un personaggio tempestoso, per dire. Ma la gran parte degli altri che ho conosciuto avevano tratti caratteriali non così dissimili da Moro. Diciamo che Moro portava alle estreme conseguenze la curiosità verso il prossimo. E il prossimo a cui lui rivolgeva attenzione non era necessariamente né colto, né interessante, né significativo. Cioè lui riusciva a trovare motivi di riflessione anche in colloqui con persone che, conosciute più da vicino, non esprimevano grandi, come dire, non erano capaci di grandi sorprese, non esprimevano pensieri inediti. Però lui era molto portato all'ascolto. Infatti, quando poi lui morì, io cercai di ricostruire nella mia memoria i colloqui avuti e devo dire che avevo dei grandi spazi vuoti, dei grandi vuoti di memoria. Il vuoto era legato al fatto che Moro interrogava. Moro non faceva la lezioncina, non saliva in cattedra, non era lui che spiegava come stesse andando il paese, la DC, il mondo. Incontrando un giovane era motivato dal bisogno, dal desiderio, dalla curiosità di sapere come quel signore lì, a cui dava del lei, che trattava con garbo, ma anche con una certa distanza, come quel signore lì vedesse il mondo. L'elemento di maggiore valore della sua progettualità politica stava probabilmente in questa capacità di rielaborazione di una infinita quantità di conversazioni con persone le più anonime, le più lontane dalla luce dei riflettori, che però mettevano in movimento una ricerca che era politica, culturale, esistenziale e che era, come poi i suoi discorsi rivelano, anche molto profonda. Moro è stato un uomo difficile e ha attraversato tempi difficili, però quei tempi avevano dentro alcune regole che erano abbastanza ferree. La prima e fondamentale di queste regole era la convivenza. si stava dentro lo stesso partito, pur avendo rivalità, contrasti, e pur considerando il fatto che di tanto in tanto quelle rivalità e quei contrasti arrivavano a un punto di insofferenza. Allora, proviamo a descrivere il rapporto tra Moro e i democristiani. Moro intanto non nasce democristiano. I primi scritti di Moro sono gli scritti di un uomo che non sa bene se si occuperà di politica, certamente è un cattolico, certamente è un democratico, però rispetto alla prima organizzazione della DC manifesta un qualche scetticismo. Diventa segretario del partito, anni dopo si può dire per caso, perché la improvvisa caduta di Fanfani apre un vuoto e in quel vuoto i notabili dell'epoca decidono che Moro è il giusto segretario di transizione, destinato a governare qualche mese e poi lasciare il campo a leader più robusti di lui. Moro si afferma, diventa leader a tutti gli effetti di un partito che però lo subisce, è soggiogato dal suo fascino intellettuale, ma al fondo non lo ama e non lo sente così tanto suo, nel 68 dopo una lunga cavalcata di 5 anni da segretario del partito e 5 anni o quasi da presidente del Consiglio, Moro cade, nonostante la DC abbia vinto le elezioni e viene messo in minoranza, poi lui radicalizza quella posizione perché nasce anche in lui l'idea di essere stato maltrattato, di essere stato oggetto di un certo vituperio, per cui lui radicalizza la sua estraneità rispetto al gruppo di comando della DC di quegli anni, i piccoli Forlani, il gruppone Doroteo, ricostruisce le sue fortune a partire da una piccolissima corrente, la corrente Morotea nel momento di maggiore rilievo numerico conta l'8%, il 92% dei democristiani votano per altri, non per Moro e però sia pure in questa posizione di straordinaria minoranza, Moro riesce a guidare il partito, è lui che mette in campo Zaccagnini, è lui che governa, dopo il 76 è lui che regola l'equilibrio politico, non è più presidente del Consiglio ma resta un uomo cruciale nella formazione di tutti gli equilibri del tempo, quelli dentro la DC e quelli dentro il governo. Il fatto che lui abbia questo peso così preponderante, a dispetto di numeri così esigui, è per molti democristiani una contraddizione in termini, cioè il capo democristiano che governava, non so, Lattanzio a Bari piuttosto che Gaspari in Abruzzo, piuttosto che Bisaglia in Veneto, piuttosto che Marcora in Lombardia, cioè gente che aveva un seguito molto più organizzato, molto più forte, che però doveva riconoscere a Moro una leadership politico-intellettuale, questo ingenerava un certo malcontento, che era reciproco, perché Moro era disturbato, come ho detto prima, dalla mediocrità di tanti suoi interlocutori. Ma i democristiani, diciamo, più di tradizione, cercavano di dare solo un peso numerico alle loro forze e quindi constatavano che Moro di numeri ne aveva meno di loro. E i democristiani, più giovani, più scalpitanti, quelli che dopo il 76 si mettono in testa di fare una DC chissingeriana, una DC moderata, ma nello stesso tempo molto rinnovata, molto giovanelistica, non più notabilare, vedono Moro come un ingombro. Quindi il rapporto tra Moro e la DC è un rapporto sofferto, cioè un rapporto di insofferenza, reciproca. Però questa era la regola dei partiti di allora. Non è che tra i comunisti, tra i socialisti fossero rosa e fiori. I partiti si facevano così. Si conviveva a forza, erano come i matrimoni di un tempo, dove, come dire, si viveva insieme senza slanci, senza passioni. Però nessuno si sognava di poter uscire di casa e sbattere la porta. Era una morale politica che a noi sembra lontanissima nel tempo, ma era una morale politica che a suo modo aveva un senso. Si spiega Moro nel suo rapporto così tormentato e così difficile e così amaro con la DC solo in questa chiave. Ma insisto, è una chiave di reciprocità. Moro era democristiano fino in fondo, ma Moro non amava molti democristiani e da moltissimi democristiani non era amato. Moro è stato un tentativo faticosissimo, arrischiato e dagli esiti imponderabili, di sottrarsi a questa condizione, cioè di risolvere il problema della democrazia malata, della democrazia bloccata, come si diceva allora. Cioè proviamo a vedere se troviamo una forma di convivenza che consente ai democristiani di governare con legittimità, ma apra le porte di un sistema che oggi sta diventando soffocante, sta diventando il problema politico dell'Italia. Non è detto che seguendo la strada che Moro aveva aperto avremmo risolto quel problema. Una volta chiusa quella strada è invece assolutamente certo che quel problema diventava irrisolvibile, tant'è che ce lo trasciniamo ancora dietro adesso, si può dire. La eredità di quel problema irrisolto racconta tutte le difficoltà in cui sta oggi la politica italiana. Diciamo che il rapimento di Moro ha due effetti drammatici. Il primo è di rivelare l'estrema fragilità delle strutture dello Stato, perché poi ci si può far forti della fermezza, della scelta della fermezza, ma resta il fatto che uno Stato che non è in grado di proteggere il suo uomo più importante, tra virgolette, la sua figura cardine, è uno Stato che si fatica a prendere sul serio. E il secondo è che in tutta quella vicenda c'è un elemento di non detto, se non addirittura di falsa coscienza, di ipocrisia, che ci trasciniamo dietro. Cioè in quella vicenda Moro è vero, è vero nella sua sofferenza, è vero nella sua paura, è vero nella sua disperazione, è vero nella sua rabbia, però è una figura autentica. Mentre questa retorica della fermezza, questa retorica dello Stato che non cede, che non si piega al ricatto, che è tutto d'un pezzo, suona falsa. E secondo me questo concorre a spingere ancora un po' più avanti quei meccanismi di crisi che erano già all'opera. Poi, dieci anni dopo, succede la qualunque, perché cambia il mondo, crolla il muro di Berlino, cambiano tutti. Quindi possiamo decidere che la crisi italiana ha avuto lì il suo innesco decisivo. Però gli storici debbono guardare anche un po' alle radici dei processi e io penso che la fine della Prima Repubblica comincia con la impossibilità per Moro e per la DC di portare a compimento un tentativo che non è detto che sarebbe riuscito, ma era l'unica flebile luce in fondo ad un tunnel dove tutto era buio e tutto indicava un pericolo. Raccontare della DC a un giovane d'oggi è un'impresa che sfiora l'impossibile. Io la metto così. La DC è stata il tentativo più riuscito di dare una sorta di unificazione politica e civile all'Italia. Prima di allora la politica è stata molto divisiva, dopo di allora si è sparsa una quantità infinita di sale sulle ferite del paese. Non a caso, dopo la fine della DC, che è durata anche troppo a lungo, che è stata una fase di stabilità che aveva tratti un po' da stagnazione bresneviana, come si usa dire, è cominciato un balletto convulso che però non ha dato vita a nessun equilibrio che sia durato per qualche tempo con soddisfazione di tutti. Moro, in una sintesi estrema, aveva secondo me due caratteristiche importanti. Primo, era un uomo intellettualmente onesto e quindi se c'era da imboccare una strada, lui la seguiva senza cercare vie di fuga, senza scorciatoie. Dopo di allora i politici si sono dedicati tutti a trovare delle soluzioni di fantasia per non affrontare i problemi, perché i problemi erano noiosi, erano pesanti, erano poco remunerativi. Moro non aveva paura di intraprendere questa fatica, quindi era da questo punto di vista un uomo che si faceva carico delle difficoltà insite, era un tentativo di cercare una verità e in secondo luogo era un uomo che dava un peso e un valore all'opinione più distante dalla sua. C'è una frase che Moro dice, credo in un discorso parlamentare, ma ricorre abbastanza spesso negli ultimi anni della sua vita politica, qui dice, rivolto ai comunisti, lo dico con parole mie, per quanto litighiamo, alla fine ci assomigliamo un po', c'è qualcosa di voi che è entrato in noi e viceversa, che in quegli anni, insisto, siamo a più di dieci anni dalla fine, più di dieci anni da prima che finisca il muro di Berlino, quindi è evidente che era una frase che sfidava il linguaggio del tempo, che era invece un linguaggio molto aspro di contrapposizioni e di bandiere sventolate contro. Moro in questo è un tipico democratico, cioè un uomo che sa che l'opinione, la più lontana dalle sue, ha un valore, merita di essere ascoltata e alla fine influenza anche chi ha l'idea contraria. Raccontare così la democrazia, però, è un'impresa, perché oggi si pensa che la democrazia è che ognuno con libertà dice la sua, che è una parte della democrazia. L'altra parte è quando io, che ho detto il mio pensiero, faccio i conti con i pensieri degli altri. Ecco, Moro era meno attento a dire la sua e più attento a trovare un equilibrio tra i pensieri di tutti. E questa era un'idea politica che poi si è un po' persa, e però invito tutti a considerare che il fatto di aver imboccato la strada delle verità assertive, unilaterali e proclamate con voce stentoria non ha avvicinato la soluzione di nessuno dei problemi che abbiamo.